Amiamo la nostra patria, crediamo nel nostro futuro e faremo fino in fondo la nostra parte. Vi ringrazio. Ho fatto rivedere due fotografie che sono successe qui in piazza. Due settimane fa il mio segretario crociava la piazza e veniva una mamma col carrello, col bambino. Lui, un prete tenero, si avvicinò per venire il bambino. Era un cagnolino. Quindici giorni fa, l'audienza è mercoledì, io andavo a salutare e passai e arrivai una signora. Cinquantene più o meno, come me, fa più o meno. Saluto la signora e lei apre una borsa e dice, ahimelo benedici a mio bambino. Cagnolino, lì non ha avuto pazienza e ho sgridato la signora. La signora, tanti bambini hanno fame. E lei col cagnolino. Grazie. Grazie. Applausi. 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 Grazie.